Allora, inizio. Correva l'anno 1900, fine anni 70. La prima macchina che mi ha colpito è stata l'X19 gialla, targa AFI, quindi targa americana, con quelle protezioni di gomma che si usavano al tempo, classica americanata, per non rovinare la crozzeria con i moscerini. Mi ricordo ancora questo fascione nero messo appoggiato tra i fanali e la parte di crozzeria che separe due fanali, con l'X19 ai fanali che si alzano e si abbassano. Quella è stata la prima, poi la seconda ce l'aveva un compaesano, aveva una betta Monte Carlo grigia in una frazione di Aviano, bellissima. Lui era piccoletto, la macchina era piccoletta, fantastica, squisita e questo è di fatto, di fatto è stata la seconda, il secondo mio contatto con le auto un po' particolari. La terza, poi come per magia saranno le prime due e questa che racconto la terza auto che ho a tutti gli effetti acquistato. La terza nasce da una storia un po' diversa. Allora mio padre aveva un amico che era concessionario Renault. Mai avuto una Renault in famiglia, noi abbiamo sempre avuto Opel di fondo, quindi Opel Record, l'Opel Ascona, ma tutto è Opel, Opel Corsa. Vabbè, tant'è che cosa succede? Succede che un bel giorno questo concessionario regala a mio padre un Depliant dell'Alpine A310 V6. Depliant sfondo nero, con la macchina in... col colore, diciamo, grigio, argento, bellissima. Le foto fatte da un viadotto fantastico, ce l'ho ancora, quel Depliant. E tra l'altro poi l'ho comprato anche in altre lingue. E quindi quello è stato il mio terzo contatto con le auto d'epoca. Poi ovviamente, al tempo avevo dieci anni, quindi non è che potessi comprarmi una macchina, più di quella in scala 1.43 non si poteva fare. Per cui, cosa succede? Anzi, al tempo si giocava anche quell'ego. Cosa succede? Non c'era la Playstation, però c'erano i Commodore. E quindi qualcosa si poteva fare con le auto. Il fatto sta che, insomma, succede che veramente per tutti gli anni 80, iniziano i 90, vado a vedermi, direi, gli piancavallo. Gelli piancavallo, quindi al tempo c'erano... Ho visto, non riuscito ancora a vedere l'ultima Lancia Stratos che correva. Ho visto ovviamente le 0.37, S4, 205 T16, le Alfetta, GTV, tutto quello che correva all'epoca. Fino all'inizio anni 90, poi mi sono un po' stancato dei rally e ho iniziato a seguire la Formula 1. Vabbè, un attimo di defiance, capita a tutti. Vabbè, comunque torniamo a noi. Finalmente nel 93 incontro il mio quarto amore. Il quarto amore perché nel 93 ero ufficiale a Foggia e un tenente pilota, mio amico, compra una Toyota MR2 Turbo. Gli due a un giorno. Sembra assurdo, ma è così. La ritira il giorno, mi ricordo se è il giovedì, così, e il giorno dopo la distrugge perché praticamente, niente, era una macchina un po' nervosetta, era non sempre facile da guidare, tant'è che insomma alla fine un traverso è andato male e costato un po' il posteriore. Questi sono di fatto i miei quattro amori. A tutti gli effetti le macchine che ho sempre voluto avere, guidare, possedere e avere proprio tutta la vita. Tant'è che finalmente cosa succede? Succede che, come tutti i cristiani di questa terra, si inizia a lavorare. E nel 98 decido di acquistarmi la mia prima spiderina. Spiderina è una cosa deve essere economica, quindi come non puntare su o un Beta Monte Carlo Spider o un X19. Allora, inizio a girare il friuli, al tempo non c'era internet più di tanto, non c'era Autoscout, non c'era Subito.it e così via. Quindi c'erano le riviste, quindi ci si abbona al classico Rote Classiche, si iniziano a godare gli annunci, si prende il telefono, al tempo c'era ancora il telefono con la cornetta e il cavo. Si c'erano i cellulari, però insomma non è che li avessero tutti. Comunque sia, inizio a girare il friuli, una parte del Veneto, ma non trovo la macchina che volevo io, anche perché costavano un po' troppo. Poi come per magia, parla con un amico, parla con quell'altro, scopro che a 5 km da casa c'era un X19 in un tristissimo garage sotterraneo, ferma lì da qualche anno, vado a vederla e la compro. Testa da rifare, perché infatti era saltata la guarnizione, un motorino ovviamente ho bloccato, prima martellata ed è partito, batteria e si è accesa. L'abbiamo tirata fuori, color arancio, Fiat arancio metallizzato 902, quindi al buio sembrava marrone, in realtà era bellissimo arancione metallizzato, molto molto bello, particolare. Vernice originale, aveva già avuto quattro proprietari, era un'iscrizione però 301280, sul libretto ho riportato 81, al che inizio a chiamare i proprietari precedenti, mi faccio raccontare un po' la storia, ben innamoro, decido anche di andarmene in vacanza l'anno successivo dopo aver rifatto la testa con un amico, di andarmene in vacanza in Croazia e ne sono ben felice. Però a quel punto dico, beh, se c'è un X19 vuoi non prendere anche una beta a Monte Carlo e metterle vicine vicine. E così acquisto fine 99, il giorno del mio compleanno, mentre l'X19 l'ho presa a giugno del 98, Monte Carlo l'ho presa il 20 dicembre del 99, bianca in fase di restauro. Anche questa dove? Nel mio paese, ovviamente, uno gira tanto, gira tanto, poi le cose le ha sotto il naso. Insomma, gira, rigira, cosa trovo? Trovo un pietro a Monte Carlo bianco, colore Fiat, no, Lancia, scusate, 222, 222, in fase di restauro. Per cui termino restauro la carrozzeria, dopo di che me la porto a casa e la notte, con mio padre, in garage, piano piano, l'abbiamo rimontata tutto. Quindi si lavorava di giorno, la sera si mangiava e poi dove si andava? Si andava in garage, come hanno fatto tanti. Si stava lì fino a mezzanotte, l'una, le due, anche dopo, però il concetto era preparare la macchina. Per cui succede che dopo un buon anno la macchina è pronta e così a casa finalmente ho X19 e beta a Monte Carlo. Nel frattempo succede che cambio lavoro, mi sposto da Aviano e vado verso Vicenza, quindi le macchine non posso più usarle e quindi decido nel 2002 di, decido, sono un po' costretto a dire il vero, abbandonare il beta a Monte Carlo che do ad un amico americano con cui ci sentiamo ancora e ho visto anche l'estate scorsa, la porta in California. Quindi la mia prima macchina restaurata, da partente da zero, se n'è andata in California ed è ancora là. Lui poi ci monta i cerchi da 18 perché loro possono, noi avevamo i 13, i tristi. Poi succede un periodo molto brutto, l'anno 2002, lo mettiamo un po' da parte nella testa, nel cuore c'è ancora e succede che decido di cambiare tutto, cambiare vita. E quindi se ne va l'X19, tranquilli, tanto poi dopo un anno e mezzo l'ho ricomprata, proprio la stessa, sono andato a riprendermelo a Torino dall'amico Gian Pietro. E cosa succede? Succede che la prendo, anzi la vendo e prendo un Alpine A310 V6, rossa, ferma da 12 anni, a Brescia, importata in Italia nel 90, e la faccio subito a Asi, in modo da avere ovviamente passaggi e bolli, tutte quelle cose lì agevolate, perché al tempo si ragionava così, non si dava tanto valore al mezzo quando si cercava di risprimere soldi, ma forse ancora così. Vabbè, faccio la seduta a Asi, dal mio solito amico rifacciamo alcuni lavoretti perché appunto era ferma da 12 anni, però di fatto più la pompa benzina, pompa acqua, le solite cose, i freni, il motore andava benissimo, e decido con lei di andarmene una settimana in Corsica. Io, mia macchina, una settimana bellissima, fantastica, ho girato tutta la Corsica dalla montagna alla costa a tutte le stradine possibili e immaginabili di questa terra, più la strada era piccola, più ci andavo. È stata veramente una settimana fantastica. Così siamo arrivati alla fine del 2003, anzi metà del 2003, con altri desideri. Cioè X09 presa, Beta Monte Carlo presa, Alpine presa, X09 mi mancava, Beta Monte Carlo mi mancava, l'Alpine era l'ingarage con me, cosa ci mancava? L'MR2. Allora, l'MR2 non è arrivata però, neanche quella volta lì. L'MR2 mi sono trovato a comprarla, c'ero quasi vicino vicino nel 99, poi le ho scelte una Pio 16 al suo posto, mi ci sono ritrovato vicino a prenderla nel 2007, quando però ho preso un Fiat Coupé Turbo 16, e poi alla fine mi sono ritrovato a prenderla, finalmente, nel lontano 2017 o 16. Non so, nel prossimo video ve lo dirò più precisamente. Fatto sta che niente, in quell'istante, quindi a fine del 2002, in metà del 2003, avevo solo l'Alpine. era un po' preoccupato, era un po' pochino. All'epoca si riuscivano a portare a casa altri ferry, come li chiamo io, a pochi soldi. Il più classico, dei classici ferry che si potevano portare a casa a pochi soldi era, da Maserati, B2. 180 cavalli, trazione posteriore, un'accelerazione che faceva o 0 o 1, non c'erano via di mezzo, o tutto o niente, sempre chiamata macchina binaria, proprio 0 o 1. E così ne ho recuperata una, 90 mila chilometri più o meno, ferma a Venezia, al parcheggio, quello a pagamento, Piazzale Roma, quindi tenuta a sacco bene, era un signore di Venezia, e nessun problema, cioè proprio portata a casa, pompa a benzina, mi sembra che l'ho cambiato e basta, e non è stata usarmela. Portata da un meccanico per dare, diciamo, un tagliandino, e nulla più. Questa macchina perfetta, l'ho tenuta per due anni, cioè se anche la lasciavi ferma due mesi, andavi lì, accendevi la batteria, accendevi, andavi. Macchina veramente squisita, che tutti quelli che dicono, ne parlano male, secondo me, o hanno trovato, o io ho trovato l'esemplare perfetto, perché poi in realtà hanno avuto anche un'altra. Oppure, non lo so, questa era un 83, quindi quasi tra le prime uscite, perché è uscita in 82, ma veramente, veramente una grande macchina. È logico che aveva la guidabilità di un camion, cioè sceso da un X19, da un Beta Monte Carlo non è gran che, ma soprattutto da un Alpine, salire su una base lati biturbo, che si ti dà una botta sulla schiena, ma tutto il resto non è così preciso. Parliamo sempre di macchine stradali, quindi non preparate, ammortizzatori, scarichi, niente, stradale. È un po' quello che è. Sicuramente, delle 4, l'X19 è molto meglio di tutte, sia come bilanciamento, come reattività della macchina, come guidabilità. Le mancano i 40 cavalli, cioè senza che avendo 85 ne avesse 125-130, sarebbe un'altra cosa, un bel autobloccante, però vabbè, insomma, questo è un altro discorso. Ecco, quindi, insomma, siamo arrivati all'83 con l'arrivo di una bellissima Maserati biturbo. Adesso mi fermo, perché nel video devo aggiungerci le foto. Cioè, vi ho parlato dell'X19 arancio, non ve lo fate vedere. Vi ho parlato del Monte Carlo bianco, non ve lo fate vedere. Vi ho parlato dell'Alpine Renault, era rossa, non ve l'ho detto. Anche se l'origine era grigia, l'avevano pittorata di rosso, in Germania, e non ve l'ho fatta vedere. Adesso vi parlo del Maserati biturbo e ancora non vi faccio delle foto. E mi direte, ma è di, è loro, andiamo avanti. Quindi, step 3, arriveranno le foto. Ciao a tutti.